La Guardia di Finanza di Formia blocca sull'autosole, tra Cassino e Ponte Corvo, due auto con cinque corrieri della droga, tutti del quartiere napolitano di San Giovanni a Teduccio, e sequestra circa 150 chili di hashish suddivisi in 1.500 panetti, per un valore complessivo di 1.800.000 euro. La droga era occultata in un doppio fondo ricavato tra il pianale e la scocca di una Fiat Multipla. In carcere sono finiti tre uomini di 46, 60 e 37 anni e due donne di 52 e 32 anni, quest'ultima incensurata, tutti accusati di traffico internazionale e di sostanze stupefacenti. Già da diverso tempo due dei soggetti arrestati erano nel mirino degli uomini del capitano Alessandro Lobello, comandante del gruppo delle Fiamme Giale di Formia, perché fortemente sospettati di essere corrieri del mercato napoletano della droga, serbatoio inesauribile delle organizzazioni criminali operanti anche nel Basso Lazio. E ad un posto di blocco sulla 1 tra Ponte Corvo e Cassino, i finanziari del gruppo di Formia hanno dato l'alt ad una Fiat Multipla, dove poi è stato ritrovato il cospicuo quantitativo di droga e una Seat Ibiza con targa spagnola. Sono state effettuate anche perquisizioni domiciliari a San Giovanni a Teduccio, culminate con l'arresto dei cinque corrieri della droga trasferiti su disposizione del sostituto procuratore Giuseppe Emiliano alle case circondariali di Latina e Rebibbia.